Signora Agnese, lei da quanti anni, da quanto tempo vive segregata in casa? Due anni. Quando è morta mia mamma è il 21 aprile. Mio figlio mi ha messo il vaso di arote, ma mi ha fatto la mia mamma sul letto. Non mi ha mai più la mamma. E poi da allora? Non si è uscita più. Non c'è il mondo a scala, non c'è niente. Ma almeno ti usci di casa. Due anni sto dentro casa, la casa mia è piccola, ma come farei? Io mi lamento, però è troppo. Mi sembra di stare in garcere senza fare niente. Non ho fatto nessun omicidio, però sto in garcere. La storia della signora Agnese è quella di una 54enne da anni chiusa in casa, perché nel suo appartamento Ater manca l'ascensore. In via Rimini, al Civico 1 a Montesilvano, la signora Agnese, che nel 1999 ha scoperto di essere malata di sclerosi multipla, ci vive da nove anni. Ma è soprattutto con l'aggravarsi della malattia, quando cominciano i primi problemi di diambulazione, che quel piccolo appartamento di appena 57 metri quadri, condiviso con un figlio 33enne, diventa ancora più angusto. Impossibile fare le scale, impossibile affacciarsi anche al balcone, dove la sedia a rotelle non passa. Una prima richiesta di aiuto arriva già nel 2015 e viene raccolta da Domenico Pettinari, che oggi, in qualità di vicepresidente pentastellato del Consiglio regionale, torna ad alzare la voce sul caso della signora Agnese. Da diversi anni stiamo conducendo anche questa battaglia. Oggi il mio cuore veramente piange. E poi sono fortemente indignato, perché non è possibile che ci sono disabili gravi come la signora Agnese, con patologie gravissime, sono costretti a rimanere segregati in casa, perché Regione Abruzzo, perché questi sono palazzi di Regione Abruzzo, non trova 30 mila euro per installare un ascensore. Ecco, queste cose non possono succedere. Non ci possono dire che non ci sono i soldi, perché quando si è voluto organizzare il ritiro della squadra di calcio, hanno speso milioni e milioni, hanno stanziato milioni e milioni di euro, una frazione di secondo. Quindi i soldi ci sono. Oggi l'appello forte che io faccio al Presidente di Regione Marsiglio è di stanziare immediatamente fondi necessari per installare ascensore e ridare dignità a queste persone, perché questo è l'appello che fanno loro. Poi in subordine chiediamo anche al Comune di Montesilvano di farsi carico della mobilità, perché queste persone possono essere poste anche in mobilità e quindi trasferite in un piano terra. Ma qui ci vogliono gli ascensori. Io più che gridare assieme a loro e portare la loro voce, purtroppo non ho potere decisionale. Quindi mi auguro che chi governa si mette la mano sulla coscienza e risolve questo grave problema. Ci può raccontare anche una giornata tipo? Meno male, le donne dammi una mano, dalla mattina alle 7 fino a mezzogiorno, mi cucino e dopo se ne vanno, perché mio figlio lavora. E questa è la mia giornata. Mi cucino, mi fanno colazione e torno al letto per la presa. Non c'è altro, non c'è niente. No, io sono un po' scocciato perché purtroppo ho chiesto pure un mondo a scala al Tocomone. Mio figlio mi faceva scendere, manca quel mondo, manca quel mondo, manca quel mondo. Sul balcone almeno a prendere una boccata d'aria, neanche quello? Ci sono barriere architettoniche anche dentro casa? Eh, sì, non scrivo, non scrivo, non scrivo, non scrivo soltanto.